l'hai fatto? l'hai fatto? l'hai fatto? e non si accendeva pure lei l'ha fatto pure lei l'ha fatto piaciuto? e dove è stato? lassù è dietro l'albero è un po' pieno per quello si ha fatto il suo pranzo eccolo qua eccolo lì sai che gli è caduto un pezzettino adesso se lo va a recuperarlo vede si fa la merenda ok adesso lo rimanda su che tanto? eccolo lì grazie grazie a voi